Il Moto Days 2015 ha preso il via anche quest'anno, 5 marzo 2015 appunto, giornata uggiosa, direbbe Battisti, giornata piovosa, ci è sembrato comunque poca affluenza almeno il primo giorno ma il Moto Days è lungo, ci sarà anche venerdì, sabato e domenica se non erro, quindi fino all'8 marzo, festa della donna. Ci sarà il Moto Days qui alla Fiera di Roma e sono 3 o 4 i padiglioni principali, poi ci sono gli spazi esterni sia per provare anche le moto ma soprattutto per assistere agli stunt, al jump degli stunt su moto e su quad, anche freestyle nelle aree esterne. Però oggi, stamattina, almeno prima mattinata, dopo l'inaugurazione di Fabrizio Frizzi e Annalisa Minetti che hanno tagliato il nastro di inaugurazione di questo Moto Days 2015, però dicevo stamattina non ci sono per motivi di pioggia le prove spettacolari di freestyle e di jump. Ricordo che ci saranno anche piloti della Superbike, da Davide Giuliano al Aslam che ha avvento già una prova della prima gara del Superbike stagione 2015, qualche giorno fa, e ci saranno poi delle novità in anteprima che si potranno anche provare. Ricordo che vediamo il programma di oggi, anche se ha subito delle pesanti penalizzazioni per il tempo, c'è anche lo spazio della Polizia di Stato per la lezione di sicurezza stradale per le scuole. La Polizia di Stato, appunto, sul palco di Dimensione Suono Roma, una radio tra le principali nel Lazio e a Roma, è presente anche qui nel Moto Days. Poi c'era appunto la pista esterna del Moto Days con Demo Ride in pista. Oggi alle 10 c'era stamattina anche il corso di Hobby Sport Mini Cross Pilota per un giorno nell'area esterna. C'è stata appunto l'inaugurazione della cantante Annalisa Minetti insieme al presentatore TV Fabrizio Frizzi, che sono stati immortalati nel momento fatidico del taglio del nastro vicino alla banda musicale. E poi appunto ricordo che ci sono anche i convegni, per esempio è programmato per le 15.30 lo show dell'Istant, vedremo se si potrà svolgere. E l'altro show è programmato per le 15, quello del Freestyle. Insomma è un Moto Days almeno per questa mattina un po' fiacco, lo possiamo dire, ma ci auguriamo che appunto nell'arco dei prossimi giorni possa riprendersi i suoi giusti spazi, la sua giusta affluenza e riscontro di pubblico. Per il momento è tutto, un saluto, a dopo, ciao.